Il turnover in vista della Coppa vede l'iniziale esclusione di Buono dagli 11 per la trasfetta di massa, per il resto ancora fuori De Angelis è una difesa che passa agilmente dai 3 ai 4 in linea. Di fronte c'è Tazioli in panchina come ex ed una squadra che necessita di punti molto più di quanto non accada in Casa Azzurra per il proprio obiettivo. Piccolo trotto nella prima parte di gara, poi azione colare del Marzocco con Camillucci che dal limite non inquadra il bersaglio spedendo alto. Risposta se non altro pregevole dal punto di vista tecnico, sul primo angolo del match batte dai 16 metri Canalini di prima intenzione alto. Subito dopo però la gara si sblocca, Bucaletti è in fuorigioco, si disinteressa però della sfera sull'inserimento di regoli in posizione regolare che a questo punto può servire il numero 9 all'indietro, diagonale di Bucaletti e gol sotto i tifusi Azzurri. Poco dopo la mezz'ora Vezzi recupera la sfera sulla tre quarti, sceglie la soluzione personale sparando però addosso a Barzottini. Il divario non si allarga nemmeno nel finale di frazione anche se la San Giovannese sfiora due volte il raddoppio. Barzottini vola a deviare lateralmente il tentativo di Bucaletti e al minuto numero 41 Mugelli fallisce la mira solo verticalmente ma non orizzontalmente. Si va a riposo con la San Giovanni con il minimo vantaggio. Nella ripresa gli Azzurri controllano per oltre 20 minuti, i padroni di casa sfiorano il pareggio al giro di lancette 23esimo. Sull'assist di Canalini Bettoni si oppone a Galelli, la ribattuta è preda di Rosai che spedisce però altissimo. Fuori regoli e Bucaletti, dentro Iaquinandi e Vanni, ripartenza con diagonale finale di Rischi che qui segnò lo scorso anno Barzottini però stavolta c'è. Un minuto e traversone da destra di stampa sul fronte opposto, svetta Falchini risponde il dirimpettaio Bettoni negando il pareggio. A 5 giri di lancette, alla fine poi Vezzi va giù in area massese a contatto con Miglianti. Tutto regolare per il direttore di gara e finisce così dopo 4 minuti di recupero. La Sangio espugna massa e non è lontanissima dai playoff.